Centini colleghi e colleghe buongiorno, ci risentiamo dopo una bella pausa per un'altra pillola di commercio per parlare di una legge entrata in vigore l'ultimo giorno dell'anno scorso, il 31 dicembre, pubblicata sulla gazzetta ufficiale il giorno precedente 30 dicembre, la legge 214 che introduce alcune novità in materia di commercio al dettaglio. Adesso andremo a vedere nel dettaglio. Salterò alcuni passaggi di questa legge, in particolare l'articolo 11, perché ha distretta competenza del SUAP in quanto tratta del rinnovo delle autorizzazioni per il commercio su area pubblica. Vi faccio soltanto notare che grazie a questa legge il commercio su area pubblica torna sotto la regolamentazione del decreto legislativo 59 2010 che è quello che ha dato in esecuzione in Italia alla famosa, per alcuni famigiorata, direttiva Wolkenstein. Poi tralascio anche alcune novità adottate per tutelare la natura di presidio urbano e di servizio delle attività commerciali e artigiane nei centri urbani, che tratta di esercizi di vicinato, medie strutture di vendita ed attività artigianali, perché appunto questione di competenza eminentemente del SUAP, per dedicarmi invece all'articolo 12, ai commi 1 e 2, perché viene introdotta innanzitutto una nuova casistica, un nuovo caso di svolgimento delle vendite di liquidazione. Una modalità che spero non dovremo mai incontrare, ma che purtroppo, visti i cambiamenti climatici, potrebbe non essere così infrequente. A cosa mi riferisco? Al caso di accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante dell'attività a causa dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile. Per riassumere, il codice della protezione civile definisce che cosa sono le emergenze di rilievo nazionale, che sono eventi calamitosi ovviamente di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, che per la loro intensità o per estensione debbono essere fronteggiate nell'immediatezza o con immediatezza di intervento, con mezzi e poteri straordinari da impiegare per limitati e predefiniti periodi di tempo. Questa era una citazione dal codice della protezione civile. Che cosa serve anche, sempre ai sensi di questo codice della protezione civile, una deliberazione del Consiglio dei Ministri che appunto deliberi lo stato di emergenza di rilievo nazionale, ne fissi la durata e anche ne determini l'estensione territoriale. In presenza di queste due condizioni è possibile svolgere una vendita di liquidazione di scorte di prodotti che si sono accumulate in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante delle attività. Arribadisco, evento che speriamo di non incontrare più nella nostra vita, però insomma il fatto che sia stato normato non ci fa essere ottimisti. Vengo invece ad un'altra novità che sicuramente incontreremo nell'esercizio della nostra attività di controllo ed è relativa alle vendite straordinarie. Ebbene, quando un'impresa intende a svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali anche situati in diversi comuni, sottolineo questo, delle vendite straordinarie, la norma ci dice promozionali e sottocosto, ebbene l'impresa può presentare in via telematica al SUAP del comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, quindi non dove ci sono le attività ma dove ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo altresì le informazioni e richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Il SUAP che riceve questa comunicazione, che cosa deve fare? Deve trasmettere ai SUAP competenti per territorio, quindi quelli dei comuni dove hanno ubicazione degli esercizi commerciali, deve trasmettere inoltrare la comunicazione ricevuta, quindi attività, cioè impresa che ha sede in un comune, a quel SUAP di quel comune fa la comunicazione dicendo io nelle tal date svolgerò una vendita promozionale, ma adesso vedremo perché la vendita promozionale non è in realtà un nostro problema, svolgerò una vendita sotto costo con le modalità che adesso vedremo, quindi negli esercizi, siti nei comuni, x, y, z e quant'altro. Questo SUAP a quei comuni dovrà trasmettere la comunicazione. La norma ci dice che la documentazione relativa a queste vendite è tenuta a disposizione delle autovierità di controllo, quindi eminentemente a noi polizia locale, nell'esercizio, quindi non nella sede dell'attività, ma nell'esercizio dove questa si è svolta per due anni, oppure in un sito internet il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni tramite il SUAP della sede, quindi non è che viene mandata ai singoli comuni, viene mandata al SUAP, come abbiamo visto prima, dove ha sede l'azienda e questa la trasmette ai vari suo. Il sito deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sotto costo. La modalità prescelta tra queste due, quindi documentazione tenuta a disposizione nell'esercizio, la definisco cartacea, ma un file pdf fondamentalmente, che poi per comodità potrebbero stampare per esibirlo, oppure l'indicazione del sito internet, la scelta tra queste due modalità deve essere indicata nella comunicazione inviata. Quindi io lo so dalla comunicazione quale modalità viene effettuata, viene prescelta. Questo cosa significa in concreto? Che per le vendite promozionali in Emilia Romagna, ma direi quasi in tutta Italia, non cambia nulla, nel senso che la regione ha eliminato una qualunque previa comunicazione, quindi non devono fare nulla. Lo ricordo giusto, così come refresh, che le vendite promozionali in Emilia Romagna possono essere svolte per tutti o parte dei prodotti merceologici posti in vendita con il vincolo teorico che è quello di svolgere per periodi limitati di tempo. Non essendo stato mai precisato che così si intenda per periodo di tempo limitato, voi capite bene che salvo l'infinito qualunque periodo di tempo è limitato e quindi non mi faccio problemi. Cioè uno potrebbe comunicarmi anzi non me lo comunica neanche, scusate ho detto una sciocchezza uno potrebbe fare una vendita promozionale della durata di 364 giorni, perché no? o di 365 giorni. È un periodo limitato? Sì lo è dopodiché ne potrà fare un'altra eventualmente di altrettanti 365 giorni peraltro ribadisco senza necessità di fare alcuna comunicazione L'unico vincolo che c'è, che è stato reintrodotto da un po' di anni ormai è che le vendite promozionali non possono essere effettuate nei 30 giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione per una serie di prodotti che sono l'abbigliamento, le calzature, la biancheria intima, gli accessori di abbigliamento la pelletteria, tessuti per abbigliamento e arredamento quindi questo di fatto è l'unico vincolo reale per cui per le vendite promozionali questa novità in Emilia Romagna non incide assolutamente cambia invece per le vendite sotto costo perché sappiamo che ci sono dei vincoli per esempio che deve essere comunicata al comune dove è ubicato l'esercizio almeno 10 giorni prima dell'inizio e che non può avere una durata superiore a 10 giorni a questo punto nel momento in cui la polizia locale deve andare a fare un controllo mi raccomando è bene verificare bene mi verrebbe da dire ho scritto nella slide indispensabile verificare se sia giunta, se sia pervenuta la comunicazione al suo ok perché il problema è che visto le abilità informatiche e gli strumenti informatici di cui siamo dotati nel caso non risultasse ancora pervenuta è bene comunque procedere non a verbalizzare nell'immediatezza ma operando sempre mediante un verbale di ispezione fatto bene e ricordando che copia dell'ordale di ispezione deve essere lasciato alla persona presente sul posto ovviamente titolare o addetto dell'attività questo perché? per un motivo molto semplice perché non è così immediato poter accertare immediatamente e faccio alcuni esempi per esempio appunto se è vero che la documentazione deve essere conservata per due anni nell'esercizio quindi lo ribadisco non nella sede dell'impresa che può essere dall'altra parte della penisola ma nel locale dove si svolge l'attività e deve essere a disposizione dell'autorità di controllo ok però è altrettanto evidente che come dire noi veniamo a sapere soltanto a posteriori qual è la modalità che era stata prescelta a meno che tutto non fili assolutamente liscio ovvero l'azienda che intende svolgere l'attività comunica almeno dieci giorni prima al swap dove ha sede che svolgerà la vendita sotto costo negli X comuni dove ha gli esercizi e questo swap sia così tempestivo da inoltrarla non dico in tempo reale ma quasi a tutti quei swap allora potrò avere a disposizione tutte le informazioni per andare a fare le verifiche del caso ma se questo non avviene capite bene che non ho tutti gli elementi per verbalizzare in concreto se entro in un esercizio commerciale che sta effettuando la vendita sotto costo e la sede dell'attività è nella la sede dell'azienda scusate è nello stesso comune dove viene esercitata l'attività è chiaro che essendo quello il swap unico ed è il swap del comune dove la stessa polizia locale lavora la verifica è è abbastanza semplice è abbastanza immediata ok ma questo probabilmente sarà un caso assolutamente residuale quello che invece è molto più probabile è che la sede sia in un altro comune e a questo punto non avendo il controllo diciamo della catena di trasmissione delle informazioni e pensate per esempio ad aziende che hanno decine ma addirittura potrebbero avere anche centinaia di esercizi sparsi per la penisola e mettiamo che decidano di fare la vendita sotto costo in tutte queste decine o centinaia di esercizi capite bene che l'azienda manda il swap al suo swap diciamo di riferimento a quello dove ha sede la comunicazione questo swap deve trasmetterla quindi smistarla ai swap di tutti gli esercizi sparsi nel territorio ovviamente dove gli è stato comunicato dall'azienda che intende svolgere la vendita sotto costo può essere un impegno abbastanza gravoso ok e potrebbe bastare una minima distrazione per creare dei pasticci anche perché non c'è l'obbligo da parte dell'azienda di svolgere contemporaneamente la vendita sotto costo in tutti gli esercizi potrebbe svolgere alcuni sì in altri no in alcuni in certe date e in altri in date diverse ok quindi gli errori potrebbero potrebbero capitare insomma con una certa frequenza quindi siamo certi che il nostro swap riceverà in tempo utile la comunicazione dal swap che ha ricevuto la prima comunicazione potrebbe accadere invece che la riceva con ritardo a quel punto lì il controllo potrebbe essere comunque agevole se l'azienda ha deciso di tenere la documentazione nel locale e quindi l'ha già magari inviata anche al proprio esercizio in quel comune dove noi andiamo a controllare ma comunque noi se è la documentazione quella in formato pdf dovremmo comunque avere la certezza che quella coincida con quella che è stata depositata al suo e quindi dovremmo comunque procedere a un control diverso è se invece fosse una comunicazione di un link ma è anche vero che con gli strumenti che abbiamo a disposizione siamo in grado di accedere a quel link in presa diretta chi è controllato hai detto che sia così comunicativo che ci metta magari a disposizione degli strumenti che magari noi non abbiamo potrebbero esserci mille inghippi quindi evitiamo la fretta facciamo lo ribadisco è un consiglio quindi poi ognuno faccia come gli pare però facciamo un accurato dettagliato verbale di ispezione ne rilasciamo copia facciamo un adeguato book fotografico che fa sempre bene e poi sviluppiamo sviluppiamo in ufficio e verbalizziamo di conseguenza se c'è da verbalizzare qualcosa bene con questo concluso vi ringrazio per l'attenzione come sempre ne approfitto per mandare un ricordo un saluto e un abbraccio a tutti gli amici e colleghi amici perché non tutti coloro che dedicano attenzione a questi video sono dei colleghi che spaziano dalla lontana Puglia fino alla Lombardia comprendendo Lazio, Veneto ovviamente ed Emilia Romagna quindi un caro abbraccio a tutti e a tutte e alla prossima volta a presto grazie a tutti